Vogliamo vivere! E quanto affermano ancora una volta a gran voce i cittadini tarantini stesi dinanzi la sede della prefettura ionica dopo la sentenza del Consiglio di Stato che ha annullato l'ordinanza del sindaco Rinaldo Melucci sulla fermata dell'area a caldo dello stabilimento siderurgico Exilva. Non abbiamo più niente da perdere, ormai siamo condannati, sostengono, ad essere cittadini di serie B. Cioè è uno Stato che sta negando tutto praticamente, sta coprendo e sta passando da sopra alle nostre vite. Noi non abbiamo più niente da perdere a questo punto. A Taranto è sospeso lo Stato di diretto, in tutto il resto d'Italia c'è la difesa della salute, a Taranto questo principio non vale. A Taranto si difende la produzione, si difendono gli impianti di morte, a Taranto dobbiamo morire perché lo Stato deve continuare a produrre. Una sentenza che ha scelto le ragioni dell'azienda dando torto a quelle dei cittadini, tuona Alessandro Marescotti. I rischi sanitari a cui sono esposti i cittadini di Taranto, che sono stati evidenziati dalla recente valutazione d'anno sanitario, dal conteggio degli eccessi di mortalità nei tre quartieri più vicini all'area industriale e dalla recentissima ricerca sugli effetti neurotossici di piombo e arsenico sui bambini di Taranto. E quindi questa sentenza, per quanto favorevole alle ragioni di Arcelor Mittal, non ci ferma. Ed intanto anche alla luce della sentenza del Consiglio di Stato, FIM, FIOM e WILM parlano di criticità in merito all'avvio della procedura della Cassa Integrazione Ordinaria per 4.000 lavoratori per un periodo presumibile di 12 settimane. In assenza di una convocazione celere da parte dei ministeri competenti, annunciano il 2 luglio e prevista assemblea con presidio dinanzi la portineria direzione.